Una donna di 41 anni è morta in un grave incidente avvenuto sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 di ieri sabato 24 giugno, a circa 700 metri dallo svincolo di Atripalda, in direzione del capoluogo della Valle dell'Irno. Due veicoli sono entrati in collisione causando la morte immediata della donna a causa delle ferite riportate. Il marito è rimasto ferito ma le sue lesioni non sono gravi. Gli occupanti dell'altro veicolo, due giovani di Solofra, hanno riportato solo lievi escoriazioni. La coppia di sposi si era appena unita in matrimonio una settimana prima, rendendo ancora più tragica la situazione per il marito sopravvissuto. Sono intervenuti sul posto i medici e il personale sanitario del 118 ma non hanno potuto fare nulla per la donna deceduta. Il marito e i giovani feriti sono stati medicati sul posto senza necessità di trasferimento in ospedale. Le autorità sono attualmente impegnate nell'indagine per determinare le cause esatte dell'incidente e la morte della donna di 41 anni.